In mattinata per Gilberto l'attesa intervento all'Angelo per la frattura nasale multipla rimediata dopo la barbara aggressione subita il giorno di Ferragosto ad opera dei due tossicodipendenti all'ora di pranzo nell'Androne di Casa in via Fogazzaro, laterale di via Cappuccina a Mestre. E sempre oggi, nell'esprimere solidarietà e pieno sostegno al trentenne preso a pugni, l'appello a prefetto e questore dell'assessore al commercio di Venezia, Sebastiano Costalonga, affinché si intervenga al più presto e con urgenza per garantire sicurezza tanto ai commercianti quanto ai residenti di quell'area dove è trasmigrata la delinquenza da via Piave. Chiediamo ancora un aiuto al prefetto e al questore che ci è sempre stato vicino, come si è visto anche in presenza durante le fiere, era sempre presente, quindi c'è vicinanza da parte delle forze dell'ordine, però logicamente solo loro possono aiutarci a risolvere il problema di queste persone che si spostano da una via all'altra e ci creano problemi. La presenza sul territorio è fondamentale per dare anche quella sensazione di sicurezza. La presenza sul territorio è fondamentale per dare anche quella sensazione di sicurezza.